buongiorno buongiorno a tutti oggi mi vedete in una veste particolare anzi quasi quasi non mi vedete proprio sono un po all'ombra perché stavo stancando oggi non vi parlo dall'auto mi parlo della da un bellissimo posto la campagna un posto dove tutti dovremmo esserci voglio parlarvi del sì no a questo referendum allora quello che voglio dirvi perché votare sì non voglio stare a perdere tempo perché così cola la riduzione il benefici il sì è un grido di rabbia del popolo che si è stancato di questi mangiapani a tradimento mi venite a dire che riducono i parlamentari che difendono il sud ma oggi il sud viene difeso da qualcuno rispondetemi viene difeso da qualcuno e allora che cavolo scusate mi sono lasciato può andare che cosa li teniamo a fare queste persone è ora di cominciare a cambiare queste persone devono andare a zappare non a sedersi in parlamento a fare i comodacci loro e ad arricchirsi devono sudare devono sudare come sudiamo noi basta riduciamoli è finito con questa storia che che viene la dittatura mussolini non ritorna più stalin non ritorna più quelle sono dittature hitler nemmeno non risuscitano finite la anche luigi e naudi nel 46 quando decisero di di formare questa costituzione che ormai è vecchia si è vecchia deve volversi disse che erano troppi adesso mi vede a dire che luigi e naudi si sbagliava era un fascista magari ma non era il 46 dove dopo guerra ed il deiotti proprio tutti i fautori di sinistra e del no parlo a loro il deiotti la loro beniamina anche lei degli anni 80 se non sbaglio diceva la stessa cosa chissà perché forse ogni tanto a qualcuno arriva un pizzico di di intelligenza la coscienza un po di di un po di dire ma io qua che sto a fare il popolo ma votate ma io qua che sto a fare solo ad ingrassarmi allora andate a casa facciamo una nuova costituzione sì una nuova lo stato svizzero ha una costituzione giovanissima perché essendo uno stato confederato la costituzione la sceglie il popolo e si aggiorna volta per volta ed è il popolo a decidere ma cioè voi vi rendete conto che noi non possiamo più neanche non abbiamo chi votare il partito che dice vota tizio ma se a me quella persona non piace che faccio no perché l'ha detto il partito obbedisco come disse quell'altro cretino in camicia rossa che ci inguaiò che portano cretino nero ma basta vedere quanti soldi si è preso dalla massoneria vabbè i cretini erano chi ci ha creduto nel sud i traditori del sud come quelli che stanno oggi sì io lo dico in faccia chi vuole il no a prescindere della buona fede di chi si è lasciato a convincere da questi furbetti chi vuole il no vuole che le cose rimangano come stanno che i nostri figli continuano ad emigrare che le persone come me a 55 anni non trovano lavoro perché sono grandi devono andare a rubare se verrà strano ma se io vado a rubare troverò il lavoro subito dopo ma che razza di stato è questo che c'è dove stanno chi protegge il popolo nessuno insomma fatemi tornare alla cosa più bella che esiste a zappare che la terra ha bisogno e signori miei votate sì così restituiamo un po di braccia all'agricoltura arrivederci